E' fatta anche la finale dell'Ivolo Massimo, sempre c'è un'idea, sempre ogni, ogni, che è un livello. Un cento. Un cento. Un cento. Si tratta di genitori e figli. 12 tiri. E' un pane che ha un cento. Un po' più grande. E' 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 un po' più grande. dai 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 faranno in 2019 il primo trascimento il combattuto il tiro Balinis all'esterno due i primi di Berlusca in questo momento Balinis al piano Grazie. 18-161 di due punti a Volai e un punto al numero 161 pesante. 18-161 di due punti a Volai e a Volai. 18-161 di due punti a Volai e a Volai e a Volai e a Volai. 18-161 di due punti a Volai e a Volai e a Volai e a Volai. 18-161 di due punti a Volai e 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 a Volai. 19-161 di due punti a Volai e 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 a Volai. 18-161 di due punti a Volai e 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 a Volai. tra i punti di meno 6, 18 e Murlai, 137 e Monchiero. Siamo alla campana di meno 5. Andiamo a Parini all'esterno, sempre Monchiero e Murlai. Sembra una partita tra 1-3 in questo momento, per la vittoria finale. Monti di meno 4, 188 e 137. 188 abbiamo mai imparato e Valini e 137. Monchiero. E c'è un allungo, una fuga da parte di Bossi. Venga, abbiamo la campana di meno 3. Bossi allunga deciso, si prende un rettilineo. Si va a prendersi i 2 punti del meno 2. 46, 2 punti, 18 un punto. 46, 2 punti per Bossi, 1 punti per Murlai. Prosegue nella situazione Leonardo Bossi e andrà a prendersi tranquillamente anche i 3 punti finali. Vediamo la scena di fare con i Gagliazzo, Valini e Monchiero. E' un'ultimo! Ed eccoli all'arrivo intanto. Adesso si è seguito. E' proprio Bossi, Gagliazzo e Valini. Vieni! Grazie per la visione!